Spa-Francorchamps rappresenta l'ultimo circuito naturale rimasto in Formula 1 e di fatto ha la curva più tecnica del mondiale, l'Oruja-Radion. Si affronta in settima marcia 295 km orari e proprio nel tratto centrale dove abbiamo il cambio di direzione verranno scaricati 2,2 g di accelerazione verticale. Questo si traduce in una moltiplicazione di 2,2 volte del peso vettura, pilota e carico di carburante che sommati al carico verticale genera una pressione sull'intero sistema sospensivo di oltre 2,5 tonnellate. È la sospensione anteriore che gestisce le imponenti forze verticali grazie ad una taratura specifica. Barra in acciaio trattato con sezione maggiore definisce caratteristiche di rigidità superiori in modo da contenere i fenomeni di compressione ed evitare il contatto tra fondo e piano stradale. A retrotreno il peso del motore sommato a valori di carico aerodinamico nell'ordine dei 700 kg aumentano questo problema. Il setup della sospensione posteriore prevede quindi ammortizzatori capaci di frenare e contenere la fase di compressione per contrastare al meglio l'imponente pressione che spinge verso il suolo.